eccolo qua il locale dove fra poche ore tutti suoneranno questo è il classico pub new yorkese dove la gente che vuole ascoltare il pubblico che vuole ascoltare la musica dal vivo la vuole ascoltare così a pochi millimetri dal palco e noi questa sera gliela faremo ascoltare veramente tutta tutta a pochi millimetri da loro ciao